M.G.Z, la musica e l'arrivo a Savona dell'alieno. Raccontaci, come sei prodato qua? Diciamo che Savona è una tappa di un viaggio intergalattico cominciato ormai da tempo. Io ero un po' che giravo per i vari pianeti, vengo da Burulandia per chi non lo sapesse. Dove tutto è fantastico, tutto è stupendo, siamo tutti bellissimi, siamo telepatici, si sta benissimo. Mi attirava molto questo pianeta che mi sembrava molto colorato. Vedevo che c'era tanto movimento e ho detto ma fammi un po' vedere com'è questa terra. Un po' di qua, un po' di là mi sono ritrovato a Savona, che è una cittadina molto simpatica, molto piacevole. La musica mi sono accorto subito che sul vostro pianeta è una delle forme di espressione più diretta, che può arrivare più facilmente, perché le parole ne avete già tante, 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 tante. La musica almeno vi muovete, vi divertite, perché a me mi interessa che voi vi divertiate, perché voi potreste anche divertirvi molto di più. E invece siete tutti un po' ripiegati dentro voi stessi. Mi è sembrato che fosse il mezzo di espressione più divertente, più piacevole, quindi poi chiaramente dico anche delle cose, ci sono delle parole poi nella musica, però per comunicare con i terrestri mi sembra proprio che sia la cosa più divertente, più diretta. Il genere preferito? Va bene, allora tieni conto che noi abbiamo musica telepatica, da noi è tutta una musica. E' tutta musica, quindi si sta benissimo, si galleggia, i generi musicali non esistono, perché esiste la musica. Sulla terra, boh, che dire, mi verrebbe da dire che la prima musica che mi ha incuriosito era il punk, che sicuramente, quindi si può dire che arrivo dal punk per quanto riguarda il mio percorso terrestre, e poi la musica elettronica, non riesco a dire a 360 gradi che è brutto, ma insomma, la musica elettronica va di vario tipo, di vario genere, e comunque la musica ballabile sicuramente, ecco, cioè ci deve sempre essere un coinvolgimento anche fisico. Cosa vuoi dire ai fan savonesi? Amate, amiamoci, amiamoci, amate, siete bellissimi, io sono bellissimi, voi siete bellissimi, cosa possiamo desiderare di più? Spesso è tutto online, internet, parliamoci per manina, facciamoci buru-buru, non stiamo sempre dietro a quegli schermini, ne avete un sacco voi travesti di questi schermini, cioè anche noi abbiamo la tecnologia, però voi siete diventati una roba, tocchiamoci, tocchiamoci di più, piri piri!